Ragazzi, il momento è solenne, anche un po' così. È la fine. È la fine. No! Facciamo di un nuovo inizio. Però è la fine di questo. Dunque, nell'attesa di un nuovo inizio, io volevo ringraziare tutti voi perché siete stati veramente... Grazie a te. Grazie a te. ...pazzeschi. Io credo che sia stata un'esperienza voluta da noi, creata da noi, fatta da noi, anche per far divertire, ma soprattutto per darci la possibilità di svagarci e di far svagare. Dunque, per me è stato veramente un onore farlo e farlo con voi è stato bellissimo. Credo che sarà un'esperienza che porterò nel cuore perché ho scoperto che è un po' il lavoro che sogno fare e quindi quando sono qui dietro a questa scrivania per queste due ore io sogno e sogno insieme a voi perché quando chiudo gli occhi penso che questo vorrei che fosse il lavoro della mia vita. Grazie a tutti a tutti per fare questo lavoro, dammi. Io vi ricordo l'appuntamento con... venite qua. Vediamo l'appuntamento alla puntata di venerdì del grande fratello VIP. Vi aspettiamo. Ore 21 abbondanti su canale 5. Grazie mille. Ciao ragazzi. Musica. Grazie mille. Grazie a tutti